L'allarme rosso per i cittadini che resteranno in città e intenderanno in agosto servirsi dei mezzi pubblici. Molti bus in deposito per manutenzione, personale ANM in ferie. In ferie si prevedono lunghe attese alle fermate. Questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Carmine Attanasio, consigliere comunale dei Verdi. Un agosto caldissimo e nero per i cittadini che restano a Napoli? Speriamo che la temperatura diminuisca, almeno questo, nei prossimi giorni. Il problema è un problema atavico degli ultimi due anni. Il problema è un problema della mancanza di mezzi. Atavico lo sappiamo perché ormai i mezzi dell'ANM sono vecchi, bisognerebbe cambiare proprio il parco autobus. Poi c'è la solita questione del personale in ferie. Certamente quella di agosto non è un bel mese per gli utenti dei mezzi pubblici. Non va giustificato il fatto che c'è meno gente perché il cittadino ha il diritto alla mobilità e purtroppo qualche volta si aspetta anche oltre un'ora per prendere un mezzo pubblico. La questione è grave perché è un momento critico per il Comune di Napoli, per la mancanza di fondi, per i tagli del governo. Ma nei fatti una politica della mobilità bisogna farlo pensando poi a quello che sarà a Napoli tra qualche anno, quando la rete della metropolitana sarà completata, sarà più facile muoversi in città. Bisogna puntare soprattutto su questo, sulla mobilità delle metropolitane e le ZTL si è fatto bene. Veniamo al ruolo delle ZTL in materia di mobilità ovviamente. Abbiamo delle criticità dovuto al fatto che alcune ZTL sono state pensate in un modo e poi sono state trasformate nei fatti, penso per esempio alla ZTL di Chiaia, che nei fatti è diventata una ZTL ridotta solo alle 8.30 fino alle 14.30 e non comporta quella velocizzazione che una ZTL dovrebbe fornire ai mezzi pubblici. Il fatto di non aprire una sola corsia su Via Caracciolo in un breve tratto da Via Le Dorni a Piazza Vittoria ha comportato il fatto che i mezzi pubblici, i taxi, vengono imbottigliati poi nel traffico. La grande prova l'avremo proprio a fine settembre, all'inizio ottobre, quando riapriranno le scuole e quando ci sarà molto più traffico, anche dovuto al fatto che comincia a piovere e molti motociclisti mettono a riposo la propria moto, se così possiamo dire. Il punto è che certi progetti vanno pensati, sperimentati, studiati e poi magari attuati. Lì c'è un po' di confusione per quanto riguarda la ZTL di Chiaia. C'è anche da registrare la protesta di molti gestori di locali sul lungomare? Guardi, noi come Verdi siamo favorevoli alla pedonizzazione, l'abbiamo voluta fin dal 1995 e nei fatti siamo noi che l'abbiamo proposta al sindaco di Napoli. Però pensavamo a una pedonizzazione a step, cioè piccoli tratti di Via Caracciolo per poi allungare a tutto il lungomare quando era pronta la linea 6. Qualcuno ha voluto fare tutto subito e questo secondo me sta comportando dei problemi anche ai commercianti perché nei fatti quando la ZTL si estenderà, come ha detto l'assessore Donati, fino alle 18 di sera è chiaro che i problemi ricominceranno perché ci sarà difficoltà ad arrivare, vista anche la cronica mancanza dei mezzi pubblici, ad arrivare nella zona di Chiaia. Noi avevamo proposto una ZTL a targa alterna che avrebbe risolto tutti i problemi perché nei fatti dimezzava i flussi di traffico nella zona e anche nelle strade limitrofe perché è chiaro che un provvedimento di questo tipo poteva servire anche ai gestori dei locali perché chi vuole andare in un ristorante può andare il venerdì, il sabato, la domenica a seconda della targa e quantomeno si sviluppava quel carpooling che tutti quanti invochiamo da decenni che poi non mai si fa, nel senso che più persone prendono l'auto per esempio a Posilliper vanno a lavorare assieme, quindi meno auto in strada. Non si comprende per quale motivo non si è voluto sperimentare questo sistema di traffico ed è chiaro che non avendo due corsieri riservati ai mezzi pubblici, ai taxi sulla riviera di Chiaia ci saranno gli interassamenti che noi pensiamo sicuramente saranno nel mese di novembre per tutto l'inverno. Chiudiamo con un riferimento animalista Agosto, mese nero anche per gli animali non umani, non soltanto di questa città è il tempo degli abbandoni Il Comune di Napoli con l'assessore Sodano ha fatto una serie di appelli anche una campagna con Patrizio Rispo per non far abbandonare gli animali ma purtroppo queste campagne non è che hanno poi questi grandi effetti qua c'è bisogno di una grande educazione della popolazione dell'introduzione diciamo da anni dell'educazione civica e ambientale delle scuole perché bisogna cominciare dai bambini, la sensibilità verso il rispetto degli animali l'animale non può essere un animale di compagnia per nove mesi all'anno e poi viene abbandonato nei mesi estivi bisogna inculcare questo nella popolazione, nei cittadini questo senso di protezione di questi poveri amici nostri a quattro zambe e quindi bisogna fare in modo che questa sensibilità aumenti in città E' stato anche tempo di bicicletta, di pedalate si parla di piste ciclabili, un vecchio progetto ma sempre accantonato No, il progetto non è stato accantonato il progetto della ex amministrazione Ervolino sta andando avanti perché in pratica c'è stato un finanziamento europeo che consentirà di realizzare una pista ciclabile da San Giovanni a Fuoricrotta un piccolo tratto, diciamo il 30% delle opere è stato già realizzata adesso abbiamo dei problemi anche di mancanza di fondi e quindi pare che i cantieri siano bloccati quindi i tempi per la realizzazione della grande pista ciclabile non saranno brevi a mio parere però diciamo il problema più grosso è che bisogna far comprendere all'amministrazione che noi come primo punto dobbiamo realizzare almeno 10 parcheggi custoditi per biciclette perché se a Napoli non abbiamo i parcheggi custoditi con ricarica di energia elettrica per le biciclette a pedalata assistita noi non riusciremo mai a inculcare l'uso della bicicletta nei napoletani perché è chiaro che tutti hanno paura di lasciare la bicicletta in un posto incustodito perché ci sono dei problemi seri quindi io ritengo che veramente si svilupperà l'uso della bicicletta quando avremo dei parcheggi custoditi sulla città Bene, buon lavoro a voi tutti grazie per la cortese attenzione il tacquino politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora Grazie a tutti